Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna per lavori, due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta, sempre in direzione Bologna ma per traffico intenso, code tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra il Vivio per la 11 e Barberino. In direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano. Sulla FIPILI per lavori ci sono tre chilometri di coda in direzione mare tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina. Chiudiamo con i treni per un intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi di San Mignato, la circolazione al momento sospesa tra Empoli e San Romano. Poverse in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!